Tre piani divisi tra gli uffici che ospiteranno la stazione dei carabinieri e gli alloggi di servizio per i militari. Ecco la nuova caserma di Santo Spirito, attesa da anni non solo e non tanto dai carabinieri quanto dalla popolazione. Per la consegna è arrivato a Bari il vice ministro dell'interno Filippo Bubbico, che ha sottolineato come questo sia un esempio di cooperazione tra istituzioni, comune e province insieme al ministero e imprenditori sensibili al raggiungimento dell'obiettivo, ossia garantire sicurezza ai cittadini, Il trasferimento vero e proprio dei militari dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Prima di arrivare a Santo Spirito, il vice ministro si è fermato nel centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari. Cara di Bari viene considerato dal nostro ministero come una realtà di riferimento, come una realtà di eccellenza. Esiste un problema di natura logistica che stiamo affrontando. Io spero che si possano superare gli ostacoli che ancora permangono, tanto da realizzare un nuovo insediamento capace di migliorare ancora di più gli standard di qualità. Lo spostamento del Cara dall'aeroporto militare per allungare la pista di atterraggio appare come ipotesi sempre più concreta sulla nuova collocazione. Bubico non si è sbilanciato, ma il progetto a cui si lavora è quello di un'area vicina al CIE nel quartiere San Paolo.